La questione dell'immigrazione, anche qui si parla di un cambio di rotta del governo, assolutamente no, il governo non intende cambiare posizione sul tema dell'immigrazione, la nostra posizione rimane sempre la stessa, in Italia non si entra illegalmente, in Italia si entra solo legalmente. Vogliamo combattere il traffico di esseri umani, vogliamo combattere gli ingressi illegali, vogliamo combattere le morti in mare. Non vogliamo in alcun modo continuare a favorire i trafficanti di esseri umani. Ho letto qualche giorno fa la notizia di scontri tra le forze del ministero libico e i trafficanti di esseri umani, scontri a fuoco. La gente che organizza le partenze dei migranti illegali verso l'Italia gira armata e io non voglio aiutare questa gente, perché le mafie le combatto tutte. Continueremo a lavorare, ovviamente bisogna lavorare molto a livello europeo, il coinvolgimento dell'Europa è fondamentale, abbiamo sempre rivendicato la necessità che l'Europa si occupasse di più del fronte mediterraneo, abbiamo sempre parlato di affrontare la questione difendendo i confini esterni dell'Unione Europea, di una missione europea per bloccare le partenze e su questo stiamo lavorando. Grazie alla posizione del governo italiano per la prima volta in Europa si fanno delle riunioni ed escono fuori dei documenti nei quali si dice che la rotta del Mediterraneo centrale è una priorità, non era mai accaduto e quindi si stanno facendo dei passi in avanti a livello europeo, a livello nazionale già dalla prossima settimana stiamo lavorando per nuove norme per fermare la tratta perché su questo tema non intendiamo mollare. Grazie a tutti.